Passiamo alla tredicesima edizione del torneo Mimmo Fusco in memoria e in onore del collega Mimmo scomparso nel 2005. A vincere è stata Monza sul Legnano al tie-break. Ancora Maurizio con Antoni. 20 borse di studio alle famiglie in difficoltà, in particolare la quella terremotate di Amaterice. Il premio alla carriera, la stela della nazionale femminile Antonella del Core. L'NVP alla migliore giocatrice della due giorni, a Busto Orsizio, Sara Loda. È il trofeo numero 25 e per la seconda volta lo vince la Soggella Monza che nella finale ha superato la Sabbe Legnano al tie-break. Questa è stata la tredicesima edizione del Mimmo Fusco in memoria del giornalista e collega scomparso nel 2005. È colui che lanciò la palla a volo rosa sul Rai Sport. Una Final Four del tutto particolare con la presenza di due squadre di B1, con Leone terza in classifica e Pinerolo e le due formazioni della massima serie. Tra l'altro di nuovo di fronte domenica prossima alla ripresa del campionato. La Soggella Monza, vissando la vittoria dello scorso anno, ha confermato di essere fino a questo momento la sorpresa della stagione. Sonia Candy, tra le protagoniste, non sbagliate più un colpo. Eh no, sicuramente abbiamo dimostrato di essere in un buon periodo di forma. Dopo aver ottenuto la qualificazione delle Final Four di Coppa Italia, siamo riusciti a portare a casa anche questo torneo, che comunque, anche se non amichevole, per noi era molto importante. Due volte per Monza, insomma, è un grandissimo biglietto da visita per voi, no? Sì, sicuramente. Era importante dimostrare che siamo lì comunque attaccate alle grandi squadre e possiamo giocarcela con tutte. Essere presenti nel ricordo di un collega che non c'è più, che ha dato tanto alla pallavola, è una bella cosa, no? Sì, è stata una bella emozione. Siamo state molto contenti sia della partita di ieri che quella di oggi, per cui siamo state molto felici. Grazie.